Un ultimo passo prima della finale è il Foggia ad aggiudicarsi il primo round della semifinale di Coppa Italia di Serie C. I rossoniri regolano 2-1 la Juventus Next Gen. Mister Gallo alla ricerca della giusta reazione dopo la sconfitta nel derby contro la Virtus Franca Villa in campionato schiera i suoi con il 3-5-2. Subito dentro il neo arrivato Routiens al centro della difesa peso dell'attacco sulle spalle di Peralta e Ogunseie stesso modulo per la Juventus di Brambilla. Partita subito vivace e Pecorino per gli ospiti a rompere il ghiaccio il suo colpo di testa però suo assist di Ache è fuori misura. Al quarto il Foggia sblocca subito la contesa Costa-Pesca-Ogunseie bravo ad anticipare Uisen e a mandare alle spalle di Reina. La reazione della Juventus arriva al quattordicesimo, punizione di Jokolano per la testa di Uisen, palla a lato e il preludio al gol. Al ventesimo infatti la Juventus trova il pareggio con Poli, bravo a sfruttare un cross di Jokolano. Ancora bianconeri pericolosi al quarantesimo, Sekulov a 2x2 con Nobile tocca il pallone in caduta ma non riesce a dargli la forza giusta. Prima frazione in archivio 1-1. Nella ripresa è il Foggia a scattare meglio dei blocchi. Al cinquantaquattresimo errore clamoroso di Reina che consegna il pallone a Ogunseie. L'attaccante rosso-nero ringrazia e deposita in rete il gol del sorpasso. Cinque minuti più tardi gli uomini di Gallo sciupano il tres con Peralta. Lo stesso Peralta al sessantaquattresimo si lascia murare da Jokolano. La gara scivola via senza particolari emozioni. Il Foggia porta a casa la vittoria. Gara di ritorno fissata al 15 febbraio. Si ripartirà dal 2-1 dell'andata.